Allora, questo è il riepilogo della lezione che abbiamo fatto a Edmondo sul piano inclinato. Qui abbiamo prodotto un piano inclinato, nel senso che è una specie di scivolo, in cui produrremo l'effetto di generare dal nulla una pallina che rotolerà giù e che ci consentirà di vedere gli effetti del piano inclinato sul moto dei corpi. Questo è un tipo di esperimenti che è stato fatto storicamente nel Seicento da Leonardo e altri e che hanno consentito appunto di capire principi importanti come la forza della gravità e così via. Ora, dimostrazione è questa che si possono fare esperimenti, tipo questo, scientifico, variando dei parametri. Ad esempio si potrà variare come l'inclinazione del piano inclinato e le dimensioni della palla rezzata. c'è che scivolerà giù. Facciamo un piccolo esempio giusto per capirci. Quindi clicchiamo il piano inclinato e vediamo che ci chiede qual è l'inclinazione del piano inclinato che vogliamo fare. Quindi noi possiamo passare da 0 a 30 gradi, che è un po' tanto. Quindi se noi mettiamo ad esempio un'inclinazione molto piccola, tipo 1, vedete che il piano inclinato è quasi parallelo al terreno e poi possiamo realizzare, buttarci una palla, 1. Vedete, faccio 1, viene la palla che, visto che il piano è debolmente inclinato, la pallina comincerà a rotolare verso il basso. Rotolerà, rotolerà fino ad arrivare in fondo. Quando arriverà in fondo, incontrerà questo oggetto, che si chiama fondo, e quindi lei dirà quanti secondi di vita è durata dal momento in cui è caduta lì. Quindi vedete che abbiamo una pallina che è durata 20 secondi. Ovviamente se io clicco e metto l'angolo più alto, questo, e poi rezzo una pallina qua, questa pallina scenderà molto più velocemente. Ecco, è durata solo 3 secondi. Ora, quello che può essere interessante da far capire ai ragazzi, ai bambini, insomma anche da voi, è capire che quello che è stato scoperto è che il tempo di percorrenza, che ha una pallina che scende da questo piano inclinato, non dipende dalla massa, ma soltanto dall'angolo di inclinazione. E quindi cosa facciamo? Prendiamo sempre 30 gradi, quindi 30 gradi, e prendiamo una pallina grossa, quindi con un diametro di 2 metri. Vedete che è più grosso, quindi sembra che scenda più velocemente. c'è impiegato, vabbè, 4 secondi, qui c'è impiegato un tempo che è leggermente, sembra di meno, ma qui c'è un pochino di approssimazione, quindi è più o meno dello stesso ordine di grandezza. Infatti se noi adesso riapplichiamo sempre su 30 gradi e mettiamo invece una pallina molto piccola, 0,2, piccola, la pallina, la vedete, scende, e quanti secondi si impiegherà? Sempre 4, quindi questo è l'ordine di grandezza. Se noi invece mettiamo un 5 gradi di pendenza e poi mettiamo una pallina grossa, la 5 gradi ci impiegherà. Vediamo quanto impiega. Tac. Ci ha impiegato 8 secondi. Se gli mettiamo sempre a 5 gradi, scusate, ah, questa anche si è resettata, c'è un po' di lag, quindi gli mettiamo a 5 gradi e gli mettiamo una palla da, dunque l'abbiamo messa anche piccoletta, quindi 0,2, quindi come vi ho visto prima ci aveva impiegato 8 secondi, quindi questa pallina sta scendendo, tac, ci ha impiegato sempre 9 secondi. Vedete che il tempo è più o meno comparabile. Ora, notate che, vabbè, lo script è, in realtà, non è complicatissimo, però è un pochino complesso il setup di questo oggetto, nel senso che qui abbiamo questo oggetto linkato che sono tre piani. Dentro, nel contenuto, c'è uno script, che è quello famoso, in cui ci sono un po' di cose interessanti, quindi c'è l'altezza, il 23, che è l'altezza di questo punto qua, quindi a seconda che lo spostiate, dovete modificare questo valore, se lo mettete in una zona più alta o più bassa. Poi ci sono tutta una serie di calcoli trigonometrici per disporlo in funzione degli angoli, e poi c'è praticamente tutto lo script che permette di chiedere gli angoli, quindi se volete introdurre i vostri angoli qua, potete mettere, io ho messo un angolo 0, 1 grado, 2 gradi, 5 gradi, fino a 30 gradi, e se volete mettere altri gradi, li potete mettere qua. E poi le masse prodotte sono queste qua, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 1, 5 e 2. E quindi questo script, una volta scelte quelle due espressioni, produrrà, genererà, rezzerà la palla, la palla verrà prodotta, e verrà prodotta con velocità di iniziare 0, vedete che qui viene creata la pallina, la pallina è dentro il contenuto, quindi è questa qua, se la rezziamo, quindi la rezziamo, quindi la rezziamo, aspettate, facciamo una cosa, la facciamo rezzare a lui, con pendenza 0, allora, facendo rezzare con pendenza 0, la pallina rezzata rimane ferma, perché non c'è pendenza, quindi possiamo vedere questa pallina, la pallina ha a sua volta dentro uno script, il cui script, l'incarico dello script è quello di potersi, di ascoltare un comando, e eventualmente di cambiarsi le dimensioni, e poi quando vede che tocca un qualche cosa, che si chiama piano sotto, che è questo oggetto, vedete, piano sotto, allora lui, cosa fa? LL dai, la pallina sparisce, quindi questo più o meno è tutto il trucco, del piano inclinato, e così via, allora adesso nel video YouTube, cercherò di mettere la tabulato, diciamo, l'uscita di Firestorm o di Imprudence, magari mettiamo Imprudence, visto che voi avete Imprudence, con questo, l'oggetto, il piano, con la pallina, beh, la pallina potete anche costruirla voi, comunque il piano, magari, se non avete skill notevole di building, può dar sì che abbiate dei problemi a crearlo, e quindi metterò un file XML, che vi permetterà di tirarlo su, quindi in particolare adesso, vediamo, nel senso che io qui cosa faccio, lo salvo, con il nuovo Firestorm, che consente di salvare gli oggetti, qui si può fare un backup, quindi si salva in un formato, quando lo troverà, comunque permetterà di salvarlo, o XF, e poi, eventualmente lo teniamo su, adesso qui non collabora, more, more, save as, backup, niente, non ce la fa, eventualmente, poi questa tecnica di salvataggio, facciamo poi, una lezione ad hoc, per, nel frattempo, eventualmente, lo, cercheremo poi di darveli, questi oggetti, attraverso dei negozi, dei giver, o qualcosa del genere, d'accordo, allora, per questa settimana è tutto, ci sentiamo.